Anche le maggiori associazioni degli agricoltori del territorio dell'Abbiatense e del Magentino hanno voluto esprimere la propria opinione sulla superstrada O0 Magenta, definendola un'opera che penalizza enormemente il loro lavoro. Le associazioni degli agricoltori più rappresentative del territorio, cioè la CIA Agricoltori Italiani, la Coldiretti e Confagricoltura, si uniscono così a Città Metropolitana di Milano, ai comuni di Albairate e Cassinetta di Lugagnano e al Parco Agricolo Sud Milano. Tutti con i comitati no tangenziali nel ritenere questa infrastruttura eccessiva e gravemente penalizzante per il comparto agricolo. Nell'Abbiatense, fanno sapere le associazioni, l'agricoltura ha ancora un valore e un ruolo primario. La nostra cultura e le nostre tradizioni, dicono, sono un'eredità della storia del nostro territorio con la sua configurazione agricola, il suo ambiente ricco di verde, di acque e di cascine secolari. Tutto ciò, secondo le associazioni degli agricoltori, non può essere compromesso e danneggiato da un'infrastruttura pensata su un progetto definito obsoleto perché concepito più di vent'anni fa. La superstrada di collegamento tra Malpensa e la tangenziale Ovest, appunto con la variante tra Ozero e Albairate, si svilupperà in una lunghezza di 17,6 km e occuperà una superficie totale pari a 180 campi da calcio di questi territori. Più del 94% saranno sottratti a terreni agricoli fertili. Il suolo è parte dell'ecosistema ed è una risorsa non rinnovabile, proseguono le associazioni degli agricoltori, una risorsa che concorre alla produzione di cibo, alla sicurezza idrogeologica e alla conservazione della biodiversità, tutto ciò, in un'epoca di cambiamenti climatici in cui serve conservare la qualità paesaggistica.